Eccoci di nuovo qui ragazzi, oggi facciamo un video in cui andiamo a rivedere un attimino alcune cose bisogna andare a precisare alcune cose perché altrimenti la gente si inalbera sinceramente anche abbastanza facilmente ma sarà l'età, quindi facciamo un attimo preso conto anche di quello che è accaduto nel mese di giugno molto importante per chi mi segue e chi mi ha seguito soprattutto sui social perché è una cosa molto bella da dirvi e ne sono abbastanza orgoglioso di questa cosa e poi niente, vi aggiorno su altre situazioni, quindi andiamo non perdiamo altro Allora bene, io sto morendo di caldo ma questo video sa fa Allora ragazzi, oggi facciamo come già detto nell'ante un aggiornamento un attimino su tutto quello che è accaduto questa settimana qui che è passata, cioè quella a cavallo tra giugno e luglio e il mese scorso, quindi il mese di giugno devo fare dei ringraziamenti, devo dare dei ringraziamenti, qual è il modo più corretto, non lo so comunque avete capito, a diverse persone, soprattutto a quelli che hanno creduto in un altro progetto che sto perseguendo e insomma dobbiamo un attimino aggiornarci su diverse cose bisogna chiarire alcune cose che sono successe prima di tutto vorrei partire proprio da questa cosa Vorrei ricordare a tutti quanti che il progetto El Tanguero nasce con un unico grande obiettivo avvicinare più giovani possibili, visto che YouTube comunque è una piattaforma ricca di giovani al mondo del tango argentino, soprattutto per cercare di svecchiarlo Io personalmente nella mia scuola ho sempre cercato di farlo e per fortuna sono riuscito sempre ad avere classi di un'età compresa fra i 30 e i 40 anni quindi sinceramente questo per me è un manto e il motivo è stato sempre che ho lavorato su social soprattutto giovanili come YouTube per questo motivo il progetto El Tanguero nasce per essere semplice, diretto, cazzone anche non serio come molte delle persone che sono all'interno del mondo del tango argentino quindi chiederei a chi invece ci tiene in maniera così visceralmente in maniera seria ad essere aggressivi verso l'altro semplicemente perché magari si è detto qualcosa in maniera leggera di pensare due o tre secondi prima di scrivere qualcosa perché altrimenti le persone che poi vanno a leggere quei commenti o si mettono lì e litigano inutilmente motivo per cui non sono stato a scrivere no hai ragione, no hai torto, si hai ragione eccetera eccetera ma ho semplicemente risposto in maniera elegante tra l'altro le persone che forse se la sarebbero dovuta prendere di più sono state le persone, ovvero gli organizzatori che invece sono stati più eleganti di tutti in assoluto e hanno dato i loro chiarimenti quindi il video della settimana scorsa non era un video per promuovere i campionati della Fizz piuttosto che i campionati invece direi tradizionali italiani che si stavano facendo fino a prima ma era semplicemente un video per andarsi a leggere adesso sono usciti questi campionati ma me li vado a leggere il primo errore che ho fatto e chiedo scusa ai campioni italiani Fizz che ci sono stati in passato purtroppo sul sito non li ho trovati l'elenco dei campioni ho scritto direttamente ho scritto direttamente delle email per chiedere così magari farò un video in cui dirò anche i nomi dei campioni italiani di tango degli anni precedenti vorrei dirvi che sul sito della Federazione Italiana Danza Sportiva tra l'altro segna che non ci sono stati dal 2020, 2019, 2018 e 2017 che non ci sono stati almeno qui mi risulta i campionati ma ci sono stati nel 2016, nel 2015 e 2014 quello sì l'ho visto soltanto ieri vi chiedo scusa se non l'avevo visto invece va chiarito la questione per quanto riguarda dei tanghi della durata stavamo dicendo che alcuni tanghi potevano essere sfumati invece mi è stato chiarito che sono stati selezionati solo brani che hanno durata, che entra dentro il limite che è stato posto quindi i brani verranno ballati interamente queste sono le cose che andavano chiarite che hanno sconvolto tutti quanti che se la sono presi tutti e non so per quale motivo questo era quello che andava chiarito e quindi l'abbiamo fatto tra l'altro questo video ragazzi per me è pesantissimo da fare perché sono obberato di cose da fare ma l'ho dovuto fare perché mi sentivo anche in colpa rispetto a tutte quelle persone che se la sono presa e hanno commentato in maniera aggressiva sinceramente anche in maniera inutile perché il mio video ripeto è un video informativo in generale non è un video per discriminare un campionato piuttosto che l'altro perché io sono più che certo che i campionati possano fare solo che bene a la danza sportiva e far crescere sicuramente il livello di danza in Italia, in Europa e nel mondo personalmente tra l'altro insegno all'interno di una scuola di latinoamericani dove fanno tutti quanti le gare ed è bellissimo vedere bimbi piccoli e i genitori li portano perché sono competitivi questa è la realtà per farli incominciare ad appassionare molto probabilmente secondo me con l'arrivo dei campionati Fizz in maniera così prorompente diciamo così, ok, nella vita del tango, nel mondo del tango sicuramente avvicinerà molti genitori al tango insieme ai figli e questo è un bene sicuramente detto questo, prima che vado avanti nel tango devo ringraziare tutte le persone che hanno creduto come me nel progetto cam.tv che cos'è il progetto cam.tv? è un nuovo social network si chiama proprio cam.tv potete vedere dei post che ho condiviso sulla mia pagina Facebook sono dei post del mio lavoro principale quindi poi se avete voglia andatevelo a guardare si entra ed è gratuito assolutamente se si vuole avere un profilo si può avere un profilo poi ci sono diverse cose che vanno lette però il profilo è molto interessante perché il social è composto da persone da professionisti di vari settori quindi parliamo del veterinario, al ballerino di tango, al CFO insomma un po' di tutto e di più ci trovate dentro e la cosa figa qual è? è che se voi volete creare un blog un video come quelli di YouTube un post come quelli di Facebook avete la possibilità di monetizzarli ci sono vari sistemi vi consiglio di andare a vedere vi lascio il link qui sotto tra l'altro qui sotto c'è anche la pagina di El Tanghero di cam.tv volevo dire a tutte le persone che si sono aperte il profilo quando io lo dicevo ormai 2-3 anni fa che adesso possono convertire i loro Litecoin in moneta reale e questa è una delle cose più importanti che sono accadute bene, detto questa che era una piccola parentesi che andava fatta torniamo un attimino al nostro amato tango che cosa vi volevo ricordare? allora, 16 e 18 luglio 2021 quindi praticamente stiamo parlando sto registrando oggi è il 3 il video uscirà il 4 quindi domani che non la settimana prossima quindi quella del 10 sabato ma la settimana dopo ancora ci saranno i metropolitani italiani di tango suppongo che siano i soliti metropolitani che prima venivano fatti in giro per regioni li racchiuderanno in un'unica volta ad Igea Marina dove si trova Igea Marina? per chi non lo sapesse sta un po' più a sud di Cesenatico vi dico Cesenatico perché è conosciuta è un po' più a nord di Rimini io sono di quelle zone lì quindi vi consiglio magari di prendere un B&B o una casa in affitto o un hotel nella zona di Cesenatico vi visitate Cesenatico che è bellissimo e poi vi andate a fare un bel giro o direttamente in metropolitani o a guardare gli europei gli European Tango Cup direttamente a Igea Marina ci potete andare con la bicicletta che c'è la pista ciclabile che vi conduce direttamente da Cesenatico fino a Igea Marina molto molto bella quindi 16 e 18 luglio cioè fra due settimane ci saranno i metropolitani italiani di Tango e gli European Tango Cup vi invito ad andarle a vedere perché come sempre è uno spettacolo soprattutto personalmente ci vado perché mi piace vedere dal vivo le esibizioni di Scenario perché mi colpiscono sempre tantissimo e colgo l'occasione per tornare in Emilia Romagna e invece la settimana successiva si ritorna sempre in Emilia Romagna alla Fiera di Rimini che ospiterà i campionati italiani di Tango Argentino o meglio conosciuti ormai come Danze Argentine il 25 di luglio nel padiglione numero 3 della Fiera di Rimini andatevi un attimino a leggere come funziona per entrare per accedere perché per via del Covid insomma ci sono ancora ingressi ridotti va un attimo vista com'è la situazione tuttavia per chi non riuscisse poi ad entrare metteranno a disposizione degli schemi nel letto quindi la situazione è abbastanza agevolata diciamo per tutti questo era il resoconto della settimana barra del mese spero che questo video così riassuntivo vi sia piaciuto noi ci aggiorniamo la settimana prossima o quella dopo ancora io andrò su sicuramente per i campionati quindi farò dei video per i campionati europei metropolitani, italiani, europei per tutto poi e facciamo un commento tutti quanti insieme io come sempre vi do un grandissimo bacio a tutti un abbraccio forte a tutti ciao a io